Grazie per essere venuti, avete visto già il titolo del programma e forse qualcuno si sarà anche chiesto, ma perché le rivendite, il mondo della distribuzione è di fronte a scelte strategiche? C'è chi sta benissimo, anzi direi che quasi tutti stanno benissimo in questo periodo, è un momento, devo dire per l'edilizia, un momento magico, poi Federico della Puppa vi come dire, dettaglierà sull'argomento, ma appunto è un momento magico e come tutte le magie possono anche non durare per sempre. I super bonus non sono come i diamanti, i super bonus finiranno, andranno a, sarà un decalage, sarà una riduzione parziale anche se il governo si è impegnato questa volta per iscritto a fine settembre a una proroga al 2023 e va benissimo, però come dire, vieni a pensare al futuro e pensare al futuro significa guardare molto avanti perché le scelte strategiche delle aziende devono essere pensate, programmate per tempo. A questo poi si aggiungono come nel gioco del monopoli, non so se avete, sì tutti avete giocato al monopoli, c'è la cartellina, anzi sono le schede degli imprevisti, fate tre passi indietro con tanti auguri. In questo caso ci sono i portuali schizzinosi che temo vi faranno aspettare i materiali ancora più a lungo, è un altro problema, intendo dire, oltre a trend di lungo periodo come quelli che si conoscono ci possono essere anche altri problemi. E questo conduce a una riflessione, una riflessione che vogliamo affrontare in questo convegno e che riguarda appunto le scelte sia da un punto di vista pratico e quindi le scelte anche sotto il profilo tecnologico ma anche quelle sotto il profilo societario. Sono due filoni che vanno insieme, che sono paralleli e quindi abbiamo deciso di iniziare con un'intervista facendo dieci domande a tre distributori che sono rappresentativi in modo da fornire una fotografia, uno stato di fatto di quello che è la distribuzione. Poi affronteremo anche con altri tre rappresentanti invece di grandi gruppi quello che è, diciamo, l'altra strada, l'altra scelta che si può fare. Quindi io chiamerei sul palco Dante Cianciosi, innanzitutto, eccolo qua, Marco Orsolini e Gianluca Zanutta. Mi prego di accomodarvi, eccomi qua. E prego la regia di andare con le domande. Eccole qua. Allora, come dicevo, le dieci domande sono anche abbastanza semplici, ma servono a fotografare quella che è la situazione delle vostre aziende e più estensivamente forse di una larga fetta della distribuzione italiana. Attenzione però, perché le domande sono molto semplici, però pensateci bene perché quello che voi dite non sarà ritorto contro di voi, no. Però servirà veramente, come dire, a delineare il quadro della situazione. Partirei con la prima, che è molto semplice. Chiederei a ciascuno di voi, ah già, devo muoverlo io perché sennò non si muove, dove lo devo puntare? Qua? Là? Non lo so, non me l'hanno detto. Qua? Se qualcuno mi fa vedere perché non si muove questo? Ah ok, ci siamo. No, questo qui è semplicissimo, però la descrizione della vostra azienda parte dal presupposto che ci sia un sacco di gente, qui probabilmente tutti vi conoscono, ma tanta gente che ci segue da lontano e che magari non sa bene, non ha bene idea di quello che fate. Quindi cercate di descrivere in poche parole la vostra azienda, l'ambito in cui lavorate, quali sono le caratteristiche. Io direi in ordine alfabetico, va bene? Cianciosi. E' acceso, è acceso. Bene, buongiorno. Cianciosi. Cianciosi è a sede a Termoli, in provincia di Campobasso, Molise. Lo devo specificare perché spesso molti non sanno dove è Campobasso, quindi noi piccolo Molise dobbiamo sempre un po' specificare l'area geografica. Pensate che Molise, quindi Italia, basta Italia. Il capoluogo del Molise è Campobasso. Io sono nel Basso Molise e la località si chiama Pantano Basso. Pensate un po'. A Termoli è Santo Patrono e San Basso e San Basso. E concludo qui, insomma. Pensate un po', quindi dal Basso venire in alto. Un po' di lavoro ce ne vuole. Ebbene, la mia è un'azienda completa, completa è una parola grande, però ecco, noi lavoriamo dal pesante fino alle finiture, esclusa la termoidraulica. È nata come un'azienda artigiana di produzione e manufatti in cemento circa 40 anni fa. Anzi, qualcosina in più perché mio papà, oltre che essere un viticoltore, produceva i pali per i vigneti? Poi l'ho presa in mano io e così pian piano l'ho fatta crescere sia nella produzione dei manufatti, poi ho collegato la vendita dei materiali edili. Ho abbandonato a fine anni 80 la produzione dei manufatti e ho continuato solo con la vendita dei materiali edili. Ho traslato l'azienda da un'area del comune di Campomarino, in piena campagna, nella zona industriale di Termoli e qui è iniziata una vera crescita. Siamo come tutti stati travolti dal post 2008, però abbiamo resistito e abbiamo cominciato di nuovo poi a crescere dal 2015-2016 e oggi ci riteniamo soddisfatti del percorso che stiamo facendo. per quanto concerne poi sono una sola sede e quindi siamo dei piccoli rivenditori e cos'altro posso aggiungere se vuole. Va bene così, grazie. Buongiorno, ciao a tutti. Noi siamo la Orsolini, io rappresento la Orsolini, siamo come suggerito da un amico già qualche anno fa una start up di 140 anni. Siamo nati nel 1880 e anche noi siamo sopravvissuti a un paio di guerre mondiali, un paio di pandemie e qualche crisi economica mondiale. Abbiamo diversi punti vendita sparsi per il centro Italia, abbiamo varie divisioni merceologiche, non soltanto l'edilizia ma anche tutto il comparto delle finituri e delle termoidrauliche. Siamo in tantissimi collaboratori, qualche centinaio, ed è la nostra vera forza. Grazie. Buongiorno a tutti, Gianluca Zanotta, rappresento la Zanotta SPA, appunto come hanno detto i miei collaboratori siamo una distribuzione specializzata dell'edilizia che va dal pesante fino alle finiture, contiene anche la termoidraulica. Diciamo che oggi siamo arrivati a una politica di distribuzione sul territorio dei nostri punti vendita che ha raggiunto i 30 punti vendita e siamo circa quasi 600 persone che ci lavorano dentro. È nata nel 1952 da mio papà e adesso i conduttori siamo noi, io e mio fratello. A questo punto siamo arrivati grazie al passaggio generazionale che è stato fatto ma anche al sviluppo delle risorse umane interne cercando di elevarli nei vari ruoli. Il resto lo restiamo sull'edilizia come tutti gli altri. Bene, vedete già la seconda domanda. Io vorrei che ci pensaste un attimo. La vostra azienda in che cosa è migliore, in che cosa si distingue rispetto agli altri concorrenti con cui avete che fare? Penso e immagino che sia la consulenza, che sia la consulenza verso il cliente, la disponibilità a tanti sopralluoghi e soprattutto il coinvolgere i produttori nel dare delle risposte tecniche al cantiere. Ecco, immagino questo e immagino poi anche il servizio no stop di 12 ore al giorno e praticamente aperti tutto l'anno, purché i giorni festivi. Non è una domanda semplicissima. Uno potrebbe pensare, ecco la consulenza, sono peggio, alla territorialità, alla capillarità territoriale o alla gamma prodotti. Secondo me per noi, per la nostra azienda, il punto di forza sono le persone, sono i nostri collaboratori. Per noi il primo cliente non è il cliente esterno, quindi il professionista, l'installatore o il privato, ma sono i nostri collaboratori. E questo secondo noi è la nostra forza più importante. Sì, confermo anch'io che quello che hanno detto i miei precedenti, perché sicuramente le risorse umane fanno la differenza, però ad oggi non basta. Probabilmente dobbiamo aggiungere struttura e velocità. Sono altri due parametri che sicuramente il mercato di oggi ci chiederà sempre di più, perché è un mondo super più veloce e sta cambiando anche nel modo di fare la domanda. Ecco, passiamoci un saltino in avanti. Pensateci bene, ci avrete pensato, forse ci pensate anche tutti i giorni, in che cosa può migliorare il vostro business? Quali sono i punti deboli? Quali sono? I punti deboli, i punti da migliorare. Fatturato? Scherzo, è una piccola battuta. Noi pensiamo che dobbiamo migliorare quotidianamente in tutto, soprattutto sotto l'aspetto di conoscere meglio la filiera del prodotto, cioè dalla nascita, quindi dal produttore, fino all'impiego in cantiere. Ecco, penso che questo è l'aspetto che dobbiamo comunque sempre migliorare. Le sfide per questo nuovo millennio sono tantissime. Il miglioramento lo dobbiamo cercare ovunque, in tutti i settori, in tutti i reparti dell'azienda, dall'informatica, alla digitalizzazione, alla logistica, alla gamma prodotti, al saper fare commercio, perché saper fare commercio nel 2021 non è la stessa cosa di quello che abbiamo visto in passato, quindi i settori su cui migliorare sono tantissimi. Sicuramente l'aspetto tecnologico è quello che forse più richiede attenzione, che va calato su tutti, come ho già detto, su tutti i reparti dell'azienda. Diciamo che due aspetti che secondo me sono essenziali, che dovremmo sicuramente mettere in mani, sono uno è l'interfaccia tra fornitori e distribuzione e l'altro è l'interfaccia tra distribuzione e cliente finale. Lì siamo completamente scollegati, la filiera non funziona, siamo ancora ognuno come sciolti e in questo mercato non ce lo possiamo permettere. Se noi riusciamo a compattare la filiera e farla funzionare, siamo molto più competitivi e molto più forti. Ottimo. Questa è la quarta domanda, perché ritorniamo un po' forse al punto che citava Orsolini prima. Come avete affrontato l'aspetto della tecnologia? Ormai la tecnologia che sia il software di casa, che sia la rete, che sia l'e-commerce, che sia la gestione del magazzino è pervasiva in tutti gli aspetti. Avete di recente, non sto parlando del foglio Excel che avete comprato nel 1984, investito o affrontato questo problema? Sì, abbiamo investito nell'e-commerce, sta procedendo con calma e poi abbiamo messo tutta l'azienda in rete, praticamente abbiamo messo codice a barre dove non c'è e quindi trasmettiamo tutti i dati in tutta l'azienda in rete e quindi abbiamo accorciato i tempi e migliorata la qualità della comunicazione. È vicino a zero errori. Ecco, appunto, come dicevo prima, la tecnologia è la sfida non del futuro ma di oggi. Noi abbiamo in azienda, quindi la risposta è sì, abbiamo investito, stiamo investendo tantissimo. Abbiamo in azienda oltre dieci, undici progetti importantissimi che riguardano appunto un fortissimo investimento in tecnologia, dal nuovo software gestionale all'e-commerce, alla logistica, alla gestione del personale, a una soprattutto, perché tutti questi investimenti devono comunque essere non fino a se stessi ma costruiti, pensati, immaginati per una nuova esperienza d'acquisto per il nostro cliente più in linea con i trend attuali. Insomma, quindi non è un investimento in tecnologia solo per migliorare un processo ma è sempre finalizzato a migliorare l'esperienza d'acquisto del cliente. Sì, anche noi abbiamo investito non solo in tecnologia ma sicuramente anche in tecnologia e già da dieci anni che noi abbiamo buttato dentro diverse configurazioni. Oggi abbiamo ampliato la nostra configurazione tecnologica con una BI e con un CRM di alta potenza. Stiamo cercando di fare un grosso investimento sui big dati di ingresso, che secondo me è un po' una lettura, una chiave di lettura che ci permetterà di essere più veloci nell'inserimento. Domanda numero 5. Quanto ha impattato il digitale, il mondo del digitale, sulla vostro business negli ultimi, diciamo, cinque anni, sette anni, insomma, nell'ultimo periodo? Potete quantificarlo o qualificarlo? Quantificarlo mi è difficile. Qualificarlo diciamo che abbiamo avuto comunque delle situazioni dove è chiaro che il digitale porta presso tutti noi delle occasioni di acquisto e quindi di vendita. Come ho accennato prima, per quanto riguarda la vendita, sta procedendo con molta calma. E probabilmente è da farci su una riflessione. Per quanto riguarda invece, diciamo, la concorrenza del digitale, quantificarlo, come ho detto, no? Qualificarlo, sì. Abbiamo dei settori dove abbiamo visto che c'è concorrenza. Naturale. Per noi il digitale non è che ha avuto un impatto, in una frase ha completamente cambiato il nostro mestiere. Tutti gli investimenti che abbiamo fatto, anche noi in BI, in CRM, nelle operazioni di marketing e comunicazione, di fatto ha cambiato completamente il nostro mestiere. Se penso, ecco, cinque anni fa, la giornata tipo di un nostro venditore è completamente diversa rispetto a quella di oggi. Perché? Perché l'impatto delle tecnologie, del digitale, della nostra quotidianità, nella gestione del cliente, nella gestione del contatto, nella gestione dell'offerta, della promozione, è completamente diverso. Quindi ha radicalmente modificato il nostro mestiere e il mestiere di fare commercio. Sì, anche per noi il digitale, interno all'azienda, ha dato, come si dice, un miglioramento ai processi. Quindi sicuramente li ha atomizzati e li ha resi efficaci. Sulla parte invece attiva, diciamo che il digitale, come ha detto Solini, è un cambiamento. E dietro a un cambiamento, secondo me, c'è un'opportunità. Ma una grande opportunità. Quindi dobbiamo assolutamente stare sul pezzo e sul campo per stargli dietro. Bene. Passiamo invece, come dire, all'altra faccia della medaglia. Voi, secondo il vostro punto di vista, la distribuzione italiana è troppo frammentata o va bene così? Va verso una concentrazione o no? Sì, è frammentata, è molto frammentata. Però sto notando che ci sono acquisti in corso e quindi probabilmente il numero dei distributori divinirà in futuro. Per tanti motivi che conosciamo tutti molto bene. Nella mia area posso affermare che ci sono dei settori dove siamo in tanti. Quindi andrebbe un po' rivista la politica della distribuzione. A che livello è tutto da studiare? Ovviamente sì. In Italia la distribuzione è estremamente frammentata. Questo sicuramente è stato per tantissimi anni, per tantissimi decenni, un punto di forza. Piccole aziende, molto flessibili, molto smart, già qualche decennio fa, con tutte le caratteristiche estremamente positive di aziende familiari. Sicuramente questo oggi comincia ad essere un limite, perché la competitività, la competizione sul mercato si è alzata a livelli altissimi. Il piccolo negozio, il piccolo distributore, oggi non si confronta più con il vicino di casa, ma direttamente con Amazon. Quindi la piccola dimensione sta cominciando a diventare un grande limite. Sicuramente questo porterà un percorso, un processo di concentrazione che vedremo nei prossimi anni. Sì, anch'io confermo che nel territorio dove siamo presenti vediamo una distribuzione molto frammentata, ma il problema non è la frammentazione, ma è l'organizzazione di questa frammentazione, che è molto difficile da affrontare ai mercati di oggi. Quindi la distribuzione non è che sia legata al fatto che sia piccolo o grande, il problema è che è dislegata e quindi non essendo collegata o a un gruppo o a un multipoint, la difficoltà che farà è sempre più grande, penso, per lei, ma anche per noi non è facile. Quindi non è che ci sia una soluzione magica che dice qual è la soluzione più idonea, secondo me, bisogna vivere il mercato. Però sicuramente l'unione fa la forza, appunto. Appunto, parliamo di questo. Quanto conta la dimensione, cioè quanto impatta sul business? Gruppi, consorsi, multipoint, UGDO. Io immagino, non so, la mia azienda non è in un'area dove c'è presente la grande distribuzione. Devo fare circa 100 chilometri per trovarla. E quindi la mia è una conoscenza un po'... Non lo faccia sapere che aprono subito. Sì, però poi bisogna trovare i riscontri e quindi, anzi, loro lo sanno ancora meglio di me. Prima è meglio. Quindi tutto quello che conosco, più o meno, è quello che leggo, sento o così posso immaginare. E' chiaro che più si è grandi e più si ha una forza economica e culturale maggiore. E tutto questo può regalare al mercato prodotti e servizi migliori. Ma quanto? C'è la parola. Quanto secondo lei cambia? Questo dipende da chi ha in mano e chi dirige quel gruppo di distribuzione. Cioè è sempre l'uomo che fa la qualità del servizio e del prodotto. No, la nostra esperienza invece è un po' diversa. Siamo in realtà in buonissima compagnia nelle nostre zone. Credo che ci sia almeno un Bricoman nell'arco di 5 minuti di auto da ogni nostro punto vendita. Ma in realtà per noi questa è una grandissima fonte di ispirazione. Un grandissimo confronto. Quindi in sostanza siamo in realtà contenti che ci sia la grande distribuzione e che sia così vicino ai nostri punti vendita e che insista nel nostro stesso area geografica. Perché come dicevo è una fonte di ispirazione. Perché? Perché la dimensione conta. Come ho già detto anche prima. La dimensione conta, la potenza finanziaria conta. Quindi per noi c'è anche un certo tipo di ispirazione, di esempio, di modello che cerchiamo di prendere dalla grande distribuzione organizzata e di veicolarla attraverso poi il nostro modello e cercare di applicarla tutti i giorni nella nostra azienda che sicuramente non è una GDO, sicuramente non ha quel tipo di aspirazione, insomma di diventare come una GDO. Però secondo noi l'arrivo anche della GDO nel nostro settore specialistico e professionale può essere di grande stimolo. Zanuta, voi però, mi scusi, voi siete in una posizione un po' particolare perché voi siete grandi anche se non fate parte, faccio uno spoiler, sono quelli che saranno premiati per revenues, e quindi siete poi in una situazione in cui, come dire, siete voi grandi rispetto ai vostri concorrenti vicini. No, no, parlavo di Zanuta. Allora, sì, dimensione vuol dire tutto, vuol dire niente, no? Nel senso che i tre nomi sopra, gruppi, consorti e multipoint, sono una GDS, quelli sotto sono una GDO. E quello, anche se sono tutti e due grossi, ma fanno due metodi di vendita completamente diversi. Quindi se andate a guardare bene, il multipoint, consorti e gruppi hanno una distribuzione su B2B molto specializzata, dove come un gruppo specializzato e organizzato, mentre la GDO è un gruppo di grande distribuzione organizzata. Noi abbiamo sì una grossa dimensione, ma noi siamo delle piccole realtà messe assieme. La GDO, invece, è una grande distribuzione dove tiene solo in un unico punto vendita 10-12 milioni di merce. Chi è che ha in un unico punto vendita solo 10-12 milioni di merce? Nessuno dei multipoint? Quindi sono due distribuzioni completamente diversi. Loro puntano sul prodotto, noi puntiamo molto di più sul servizio e sulla specializzazione. Quindi sono due vendite che vanno su binari paralleli. Anzi, ci siamo praticamente divisi un po' il mercato, anche se realmente quel mercato che loro stanno adesso affrontando ce l'hanno portato via noi, perché è un mercato nostro una volta. Quindi alla fin fine loro si sono specializzati per dare un servizio al migliore del nostro su quel tipo di cliente. Diciamo che secondo me la dimensione ti permette di fare certe strategie, ti permette di fare certe distribuzioni un po' mirate. Però oggi c'è un sciacallasmo sul mercato che è devastante. Quindi tu pensi di sposare una linea, ti arriva a quell'altro che ti bypassa e va dall'altra parte. Quindi anche qui viene meno la dimensione in questo mercato di confusione. Come dicevo prima, siamo scollegati con i fornitori. Quindi quando ai fornitori tu pensi di contare qualcosa per la dimensione che hai, il giorno dopo te lo trovi che ti ha posizionato sul mercato. Non è perché sei grande e ti dà spazio. Quindi questa dimensione a volte ti lega. Non è proprio così semplice dirla che sei grande e hai tutto quello che vuoi. Non è proprio niente. Anzi, e questo è legato al fatto che non siamo coesi e compattati. Bisogna scegliere con chi stare, bisogna scegliere con che carte giocare, e invece le carte si mescano di continuo. Quindi la dimensione che doveva essere un valore aggiunto diventa qualche volta non sempre un discriminante per fare la concorrenza. Allora, rapporto tra distributori indipendenti e gruppi, consorzi, eccetera, eccetera. Qual è il valore che sentite come distributori indipendenti rispetto ai gruppi? Ho sentito parlare, diciamo, recentemente di autonomia, costi, troppe regole. Quali sono i problemi di un retailer? Quali sono i timori nell'aggregazione? Posso dire che io con i timori, i timori nell'aggregazione non credo che facciano parte del mio vivere quotidiano. Cosa frena l'aggregazione per me? Perché non ho ricevuto inviti completi. Non so se posso essere descrittivo in questo momento. Cosa intendo per inviti completi? Chi mi ha invitato nella grande distribuzione, gruppi d'acquisto, eccetera, ecco, già la parola stessa, gruppo d'acquisto, a volte mi frena. Perché non penso che nella filiera della distribuzione ci sia solo l'acquisto. Adesso non voglio criticare il nome stesso. E quindi ho sentito delle carenze nella proposta. E tutto questo mi ha frenato. E tutto questo ha fatto sì che io ancora oggi sia un indipendente. volete che vi descrivi un po' cosa mi ha frenato? Sì, bene. Ho chiesto quali sono le politiche, per esempio, sulla sicurezza del gruppo. C'è qualcosa di studiato nell'insieme per tutte le aree occupate. Ho chiesto se ci sono delle convenzioni, tipo quelle bancarie. Ho chiesto se abbiamo degli studi che si occupano di investimenti. Ho chiesto se hanno studiato gli ultimi cinque anni e poi i cinque anni successivi di un associato. Cioè, cosa è cambiato sia nella fatturazione, nella distribuzione, ma nella cultura stessa di azienda. Ho fatto tante domande che non riguardavano soltanto quanto sconto ho presso il fornitore, ma quanto è il premio finale di fine anno. Ho chiesto quanta cultura si può acquisire associandomi e posso acquisire presso di voi nel saper ancora più gestire il punto vendita. e quanta cultura posso acquisire per poter capire ancora meglio il prodotto da scegliere e poterlo poi distribuire. Cioè, quanta cultura posso aggregare intorno al punto vendita in modo che possiamo costruire sempre meglio. Perché io credo che uno dei grandi problemi sia quello di poter vendere un buon prodotto. Mi spiego. Abbiamo tanti prodotti, vero? E chi di media qualità è chi di buona qualità. Ecco, io preferirei vendere sempre il prodotto di buona qualità. Sì che costa in più, ma non fa nulla. In che senso? Il risultato nel tempo ripagherà tutto. Ecco, questi argomenti che ho citato, io non ho sentito risposte. Tutto qui. Per noi sicuramente entrare a far parte di un gruppo di acquisto o di un consorzio ha grandissimi vantaggi. Ma per noi risumo tutto in una parola. Vision. Abbiamo cominciato tanti anni fa un percorso di vision, quindi di una nuova visione della nostra azienda. e in questo percorso non è rientrato l'ingresso per noi in un gruppo di acquisto o in un consorzio. Abbiamo le idee molto chiare. Quest'anno abbiamo l'occasione del post-lockdown aggiornato di nuovo questo percorso di visione e di progetto a lungo termine a dieci anni della nostra azienda. abbiamo delle tappe che vogliamo seguire nel nostro progetto abbiamo tante nuove idee da mettere in campo quindi semplicemente so che i gruppi di acquisto e i consorsi specialmente fanno un ottimo lavoro parlando anche con chi ne fa parte sono quasi tutti molto soddisfatti però semplicemente non rientra nei nostri piani e nei nostri programmi. Va bene. Per me quello che frena l'aggregazione in primis è un po' la paura perché a volte non ci si conosce e si ha paura di conoscere qualcosa che c'è dietro un nome che se si vede solo sulle carte non si sa chi è dietro quel nome forse come ieri sera una cena fatta così qui esprimo un complimento per quello che è stato fatto da Utrade come un'organizzazione perfetta la voglia di conoscersi forse solo col conoscersi probabilmente l'aggregazione viene più più spontanea più immediata perché dietro a questi nomi ci sono delle persone quindi col conoscersi sicuramente si creano dei valori e delle stime ecco che questa aggregazione forse dopo si affronta con un po' più disinvoltura con un po' più voglia di parlarci invece ci siamo abituati a stare ognuno a casa sua non abbiamo tempo di fare delle visite di guardare quindi guardiamo l'orto del vicino quindi quello che frena secondo me più di tutto è la individualizzazione di ognuno di noi questo oggi per me è sicuramente un freno però l'autonomia è sicuramente uguale aggregazione e questo sicuramente cambierà la distribuzione nei prossimi dieci anni quindi sono convinto che qui si cambia il mondo per questa aggregazione da soli come ho detto prima anche in federazione e al lavoro non possiamo essere da soli insieme possiamo far fronte a questa concorrenza a questo mercato di continuo cambiamento quindi sono convinto che l'aggregazione va stimolata va cercata di essere aiutata con qualsiasi mezzo in parte avete già risposto qui c'era come dire l'idea di fare un focus sul gruppo da qui sembra che Cianciosi abbia già un po' come dire risposto nella sua prima non so se vuole aggiungere qualcosa su questo argomento l'ultima riflessione e la continuità della prima voglio dire aderire a un gruppo di acquisto è incentivo sufficiente dipende da cosa porta e cosa abbiamo intenzione di dare al gruppo di acquisto ribadisco quello che mi hanno presentato ad oggi per il mio modo di vivere la vita e di intendere l'azienda è insufficiente io intendo l'azienda del distributore edile come la paragone spesso a Bologna voi sapete che per salire in Italia su bisogna fare Roma Bologna e poi Ovest Oeste oppure Bari Rimini Bologna lo stesso in treno è la stessa cosa quindi io con molta presunzione dico che il distributore in Italia è Bologna praticamente il produttore si rivolge passa attraverso Bologna e poi raggiunge le varie mete è molto bello a parer mio ciò che è il nostro ruolo e quindi questo è un ruolo che va esaltato ribadisco non solo nei numeri non solo in un bilancio ma va esaltato soprattutto nel saper cogliere il lavoro gli sforzi di chi produce e poterlo poi trasferire all'interno degli studi tecnici e all'interno dei cantieri cioè rispettare tutta la filiera e noi dovremmo essere i veri protagonisti quando un gruppo di acquisto ribadisco di acquisto è un po' limitata la parola riuscirà a coinvolgermi anche in questo sicuramente io aprirò le braccia e li accoglierò o meglio mi farò accogliere all'interno di tutto questo vale un po' la risposta di prima quindi ad oggi non rientra nei nostri piani e non l'abbiamo preso in considerazione però raccolgo anche quello che ha detto Gianluca noi personalmente facciamo almeno un viaggio al mese di esplorazione di marketing esplorativo andando a visitare nostri colleghi in tutta Italia e anche in Europa quindi sicuramente un maggior confronto come grazie a Virginia lo è stata la cena di ieri e sicuramente l'incontro di oggi un maggior confronto è indispensabile siamo effettivamente ancora troppo indipendenti anche da questo punto di vista dovremmo aprirci di più confrontarci di più conoscerci di più anche senza poi confluire in un gruppo d'acquisto o in un consorzio però questo è un po' un invito che faccio a tutti un consiglio che do a tutti insomma viaggiamo di più conosciamoci di più perché culturalmente noi possiamo trarre grandissimi vantaggi Danuta vuole aggiungere qualcosa? Adire a un gruppo di acquisto per chi è solo sì fatelo perché vuol dire allungare la vita del vostro punto vendita se non volete andare a un gruppo di acquisto chiamatemi il mio numero ve lo lascio e quindi sicuramente i gruppi di acquisto hanno un servizio che sicuramente è competitivo quindi vi rendono sicuramente vi mettono nelle condizioni di poter essere più concorreziali e più pronti e attivi anche nei bassi rotazionali quindi con questi gruppi sicuramente si può lavorare molto bene chiaramente è la base di partenza per dopo vedere dove andare quindi non è che facciamo il gruppo di acquisto e sei a posto vai aggregati fai però fai qualcosa l'importante è fare nella vita chi sta fermo è già con un piede nella forza l'ultima è la più difficile come immaginate la vostra azienda tra dieci anni immagino che la mia azienda fra dieci anni sia in rete dove cercheremo tutti di lavorare per un edilizia di qualità immagino un'azienda ancora più sviluppata ancora più presente nel mercato e che sappia essere come già detto prima l'elemento centrale il fulcro centrale tra la produzione e l'utilizzo finale mi auguro con i conti a posto ma comunque è sempre distributrice di qualità e di di qualità anche nel vivere all'interno dell'azienda e all'interno del cantiere o meglio nella filiera dell'edilizia se le immagini in rete ha detto se le immagini in rete comunque la immagini in rete sì sarà indispensabile concordo con i colleghi bussolini attenzione che c'è il babbo anche circa un mese fa eravamo con tutto il board dell'azienda in un bellissimo posto in un agriturismo abbiamo siamo stati bene abbiamo mangiato abbiamo bevuto abbiamo scherzato ci siamo divertiti però per due giorni per due giorni consecutivi abbiamo ragionato proprio su questo dove vogliamo essere che cosa saremo tra dieci anni e quindi è stato un grandissimo bellissimo confronto tra noi tutti ognuno ha detto la sua considerate che questo appuntamento che abbiamo fatto circa un mese fa non è il primo e non sarà l'ultimo quindi per noi il percorso di capire che cosa dobbiamo fare per diventare quello che vogliamo diventare tra dieci anni è un è quasi un'attività quotidiana quasi un'attività operativa però non vi svelo nulla quindi lo scoprirete nei prossimi anni ma diciamo che se sono immaginazione mi auguro sempre di fare quello che ho fatto già nei primi dieci anni quindi mi sarebbe già sufficiente fare quello però la vedo un'azienda che sicuramente avrà una una proiezione tutta diciamo molto più a stretto contatto col cliente è difficile perché l'impatto col cliente è molto difficile il nostro cambiamento è legato a quello che sarà il cliente tra dieci anni e quindi non è detto che il cliente di oggi sia molto affine a quello che sta facendo in questo momento per fare questo sicuramente ho bisogno dei fornitori che siano dei veri fornitori molto legati alla distribuzione molto più vicini alla distribuzione quindi sicuramente il cliente di domani ci chiede una velocità e una digitalizzazione molto spinta ma una non standardizzazione noi vivremo ancora nell'edilizia se siamo ancora in grado di non standardizzare se riusciamo a specializzare sempre di più l'edilizia sopravvivemo se la standardizzeremo saremo vittima del processo di sovrapposizione quindi la mia visione è appunto la specializzazione con la formazione del personale con un'academy interna dove dentro ci sarà solo la formazione del personale prima di andare a rivestire i ruoli dei banchi e dei ruoli di chi è addetto alla vendita quindi è una filiera che porta parte dall'ingresso fino alla fine di specializzazione che dovrà dare risposte sempre più pesanti al cliente del domani benissimo grazie mille prego io credo che anche noi distributori ci auguriamo che in futuro ci sia una produzione più aggregata così eviteremo magari tanti equivoci perché siamo tanti noi distributori ma anche i produttori sono tanti con questo non è che sto augurando chiusure eccetera ma parliamo di aggregazione evitiamo così quei fraintesi che spesso avvengono il salto del distributore e quindi poi un clima un po' nervoso un po' polemico all'interno della filiera della distribuzione ecco lo auguro a noi ma lo auguro anche ai produttori benissimo grazie alle nostre tre cavie distributore e adesso io chiamo il professor Giuliano Noci dopo come dire la fotografia a cui abbiamo assistito una fotografia orale a trarre delle conclusioni su tutto ciò grazie 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 di cuore devo dirvi allora mi presento un attimo io sono prorettore del Politecnico di Milano e mi occupo di strategie e marketing al Politecnico di Milano e questa settimana è il terzo convegno che faccio sul tema del retail e della distribuzione a testimonianza di quanto rilevante sia oggi questo tipo di issue questo tipo di sfida io evidentemente non sono addentro nel vostro settore in modo molto specifico anche se ho la fortuna di lavorare come consulente per alcune aziende che afferiscono al mondo dell'edilizia e quindi con la chiacchierata di questa mattina voglio portare alla vostra attenzione voglio portarvi con umiltà quella che è la mia visione trasversale di 25 anni di studio sul tema della distribuzione e un tema un orientamento specifico visto che da tre anni mi occupo di supportare aziende del vostro mondo innanzitutto mi complimento con le prime le tre persone che sono intervenute perché caro Roberto ho sentito e mi capita molto di lato cose interessanti e quindi il mio scopo è quello di cercare di razionalizzare quanto ho già sentito perché i messaggi dietro la tua sapiente regia che sono stati veicolati sono messaggi estremamente importanti allora permettetemi di partire in questo mio viaggio con voi da a una considerazione che è emersa prima noi stiamo per certi versi vivendo una fase trasformativa o rigenerativa che cosa intendo dire al di là di coloro che sono nati nel 1800 fine anni fine diciannovesimo secolo larga parte delle imprese del vostro della vostra supply chain sono imprese che sono nate a cavallo degli anni 60 nell'ambito di un boom industriale in cui molti di voi penso a lei ad esempio hanno messo una straordinaria energia uno straordinario impulso per fare le cose generando cose nuove nel 2021 signori siamo per una serie di motivi esattamente nella stessa situazione con alcuni elementi di specificità perché siamo nella stessa situazione perché di fatto sta cambiando il modo di vivere la casa delle persone il modo di vivere gli uffici delle persone e il modo di vivere le fabbriche degli operatori e questo è il vostro mercato signori che vi piaccia o non vi piaccia il mercato di riferimento vostro non è chi viene a sto esagerando chi viene a comprare da voi ma dovete guardare a chi vendono i vostri e il sistema delle aspettative che sta a valle credo che sia piuttosto evidente che di fatto il mercato si sta c'è un terremoto un terremoto ha detto molto bene prima uno degli imprenditori cioè fra dieci anni non avremo non avrete la base cliente di oggi ve lo dico non l'avrete nella sostanza che cosa sta cambiando nel nel mercato finale nel mercato finale nascono bisogni completamente nuovi quali sono questi bisogni sono i bisogni della casa connessa di una casa che assume funzionità e flessibilità di valori d'uso non è più solo spazio residenziale ma diventa spazio di lavoro gli uffici che da spazio di lavoro diventano spazio di comunità perché il lavoro lo posso fare ovunque emerge un tema di efficienza energetica in questo momento incentivato dai fattori che conoscete molto meglio del sottoscritto ecco vi prego di non trascurare questi elementi perché questo momento è una droga pericolosissima per voi attenzione che poi andate in astinenza ma sarà un'astinenza pericolosa voi avete due anni di droga se in questi due anni non vi muovete per cambiare io vi dico che l'astinenza vi porterà in una situazione molto difficoltosa perché perché queste trasformazioni ribalteranno l'intera supply chain l'intera filiera ma voi pensate che a dieci anni data da nata ci siano ancora le imprese idli di oggi ma dove volete nasceranno system integrator che integreranno le competenze di anni attori cioè io non posso in un mondo che si integra sempre più l'impresa edile non ha senso non ha senso nella sua configurazione attuale non è che non abbia senso in assoluto ma non avrà più il valore di oggi esprimerà una funzione di valore completamente diversa giusto Cianciosi? i progettisti i progettisti dovranno avere caratteristiche completamente diverse non basterà cioè non ce la caviamo con un progettista esperto di finiture o esperto di di forme mi serve uno che mi faccia vivere coerentemente con i miei bisogni e dove il mattone si coniuga con la tecnologia l'altro giorno parlavo con l'amministratore legato di un'importante azienda del vostro mondo importantissima che si occupa di luce e il ragionamento che si faceva è in realtà dalla luce partiranno moltissime cose giusto per darvi l'idea del cambiamento perché alla fine io per star bene devo avere un ambiente confortevole e la luce è un primo elemento fondamentale questo per darvi l'idea di che cosa noi a che cosa noi andremo di fronte quindi se io vi posso dire che cosa immagino il vostro mercato a dieci anni data il vostro mercato a dieci anni data sarà con clienti diversi in cui le imprese edili di oggi diventeranno prestatori di manodopera di altri soggetti che probabilmente faranno da integratori e mi immagino che questi integratori guideranno le danze di tutto cioè decideranno loro che cosa comprare e non l'impresa idile sto facendo un ragionamento medio estremo per farvi capire naturalmente cioè quindi io sto in questo momento strecciando alcuni aspetti ma per farvi capire che cosa succederà e ve lo voglio dire con chiarezza oggi in un momento di euforia fra qualche anno spero innanzitutto spero da domani di essere utile alle vostre riflessioni perché io devo semplicemente oggi non convincervi darvi stimoli di riflessione peraltro confortato da quanto ho sentito mi dici tu dei tempi quanto ho speso il mio tempo comunque dimmi tu dammi tu i segni dei tempi per favore perché non vedo il display qui bene questo quindi è il quadro di contesto rispetto al quale io mi immagino ma vedo altri mercati e vedo il sistema dell'edilizia in senso allargato vedo segnali che vanno in questa direzione seconda considerazione che diciamo caro Roberto qualifica in modo bold quanto detto dagli imprenditori molto opportunamente prima è stato qualificato un concetto che è il concetto di esistenza di grande distribuzione esistenza di grande distribuzione specializzata e possiamo metterci n altri layer io voglio dire con chiarezza questa è una legge di mercato che vale da chi produce aghi a chi vende abbigliamento il mercato diventerà sempre più polarizzato che cosa voglio dire i mercati saranno uno chi punta ossessivamente sul costo due chi punta su dimensioni di servizio vi piaccia o non vi piaccia e sono pronto ad essere sfidato su qualsiasi contesto di mercato in cui volete citare e vedere che questo non si verifica allora uno elemento importante in questa polarizzazione occorre avere come diceva forse Zanutto molto chiaro ursolini i ruoli e il posizionamento specifico uno dei mali dell'imprenditoria italiana a tutti i livelli poi ne citerò altri è il fatto di non prendere delle decisioni di stare nel mezzo perché è più conveniente apparentemente io chiedo ad un imprenditore ma qual è la tua qual è la sua qual è la sua il suo posizionamento e l'imprenditore Roberto in media mi dice qualità elevata costo contenuto e mi fa incazzare perché sei costo o sei qualità sono due messaggi completamente diversi due orientamenti alle persone completamente diversi due logiche organizzative di processo completamente diverse ecco questo atteggiamento pensateci perché non vi porterà a sbattere o è costo o è servizio l'amazon di turno o la grande distribuzione organizzata general purpose non potete farci niente quella vi massacra sul costo quindi una considerazione che vi prego di prendere bene a mente è che il costo non è alla vostra portata non lo è cioè qui discutevo ieri sera con Federico anzi di Federico che mi insegnava delle cose e parlavamo del livello della dimensione media della distribuzione edilizia italiana rispetto a quella internazionale e come capita in tutti i settori noi abbiamo una frammentazione molto elevata io in tutti i settori in cui lavoro ho che le imprese non piccole ma magari da 500 milioni anche un miliardo di fatturato si trovano a competere con player che fanno dei 10 miliardi in su e allora questi dicono ma che cazzo pensate di fare il costo ma dove vivete dove vivete cioè pensate di competere con uno che è 10 volte più grande che diventerà 50 volte più grande di voi perché si concentrerà dimenticatelo il costo ecco io voglio dirvi che il tema del costo che non voglio sottovalutare quindi i consorsi d'acquisto per carità come si diceva sono importanti ma non può essere la vostra priorità se è quella vi schiantate perché a 10 anni data così come cambia il mercato vi assicuro che i modelli della grande distribuzione diventeranno pazzeschi innanzitutto logistica ieri era in un evento a Villa d'Este in cui consegnano in 10 minuti cioè un retailer nato l'anno scorso consegna in 10 minuti si chiama Gorillaz un signore l'anno scorso ha inventato questa cosa l'ha inventata l'anno scorso chiaro? l'ha inventata non so in una cittadina della Germania adesso è presente in 10 paesi europei in un anno è scalato di bestia è arrivato in Italia a Milano sta facendo altre città consegna prodotti in questo caso grocery in 10 minuti quindi non venitemi a dire che poi la veloci siete più veloci perché siete vicini cioè avrete player che da questo punto di vista vi massacrano vi massacrano perché con strutture logisticamente ossessivamente orientate a quel tipo a quel tipo di KPI ok? un anno prego quindi leggere la velocità quindi pensate a 10 anni che cosa può succedere allora allora quindi a me pare di poter portare alla vostra attenzione una prima conclusione importante e la prima conclusione importante è che voi dovete orientare la vostra vision come diceva lei mi ha fatto molto piacere quello che ha detto sia di vision che degli incontri manageriali che fate perché io vedo sempre imprenditori o dietro il banco in fabbrica ti dico ma che cazzo fai il tuo mestiere non è che sei dietro il banco in fabbrica è pensare per il futuro se no fai l'operaio fai il banconista fai il tornitore eh ma se lo faccio io lo faccio meglio sì vai a schiantare va pensi di farlo meglio sul costo competi con quelli là quindi grazie per il suo esempio la dimensione del servizio è una dimensione fondamentale e questo però ci apre dietro un mondo enorme enorme che adesso voglio qualificare quanto tempo ho ancora? a 5 ma ne avevo 40 ma ne avete tagliato? 40 ne avevo Virginia mi tagliate? mi censurate? siete in ritardo? allora vi lascio pochissimi messaggi 10 minuti però perché mi avete censurato 20 minuti almeno eh? eh? verruzione di interventi ma adesso dimostro dimostro di avere capacità adattativa primo tema servizio che cosa voglio dire con questo? voglio dire che voi avete l'assoluta necessità di conoscere molto bene il vostro cliente che è una dimensione citata precedentemente molte volte voi non dovete vendere trapani dovete aiutare i vostri clienti a fare buchi i vostri clienti non hanno bisogno di prodotti hanno bisogno di risposte ai loro problemi quindi il tema del servizio incentrato su una profonda conoscenza del mercato del cliente diventa una priorità assoluta da parte vostra prima molto qualificato da interlocutori autorevoli secondo elemento i gruppi d'acquisto in questo quadro servono a poco lei è stato un po' diplomatico i gruppi d'acquisto servono a poco perché puntano sulla variabile sbagliata che è il costo l'acquisto è il prodotto né il costo del prodotto né il prodotto sono le categorie dominanti domani perché? perché conta il servizio e conta la soluzione non il singolo prodotto perché se io devo comprare il singolo prodotto vado da Amazon signori non vengo da voi Amazon per dire un player qualsiasi che emergerà quindi i consorzi d'acquisto adesso non voglio dire vanno bene ma rispondono alla variabile competitiva sbagliata cioè la variabile di 15 anni fa attenzione in Italia non so io ho una famiglia mia io sono il primo che ha studiato quindi sono la pecora nera di una famiglia di ricoltori nell'agricoltura ci sono solo cooperative d'acquisto e di fatti si vede cosa fanno gli agricoltori sono la mercè di tutti gli altri e pensano di competere con i gruppi di acquisto coltivando i pomodorini e pensando di fare i pomodorini non lo so vuoi costare meno di un cinese non lo so quindi secondo aspetto il tema serve molto creare ecosistemi invece quindi non consorzi d'acquisto ma network di attori che traggono la loro forza mettendosi insieme per sviluppare conoscenza sul cliente per erogare servizi nuovi per inserire prodotti nuovi quindi non servono i consorzi tradizionali o meglio oltre i consorzi di acquisto tradizionali servono ecosistemi di attori che mettendosi insieme vanno in questa direzione terzo elemento serve specializzazione evocata precedentemente non potrete essere generalisti perché nell'essere generalisti sarete qualunquisti quindi non riuscirete a dire a quello là che deve fare il buco nel cemento armato su una superficie inclinata non saprete dargli la risposta giusta o gli darete la risposta di Amazon e allora a quel punto Amazon va da Amazon ok? quindi non potrete essere generalisti e dovrete leggere il vostro mercato e specializzarvi in questo quelli più grandi dovranno come Zanutto o Orsolini segmenteranno si struttureranno in un certo modo con value stream dedicati e quant'altro ok? quarto elemento ancora 3-4 minuti no? no quarto elemento avrete bisogno come è stato chiaramente esplicitato di un rapporto diverso con i produttori e i produttori avranno bisogno di un rapporto diverso con voi allora è evidente che i produttori tentano il salto della quaglia diciamo con chiarezza cianciosi i produttori ovunque vada in tutte le reti distributive in cui lavoro il produttore tenta il salto della quaglia ma il produttore il salto della quaglia non ce lo fa fare per una serie di motivi o può approcciare può fare il salto della quaglia sul super standard quindi in questo quadro si apre una nuova prospettiva ma è la prospettiva che anche voi dovete generare ai produttori perché se voi vi proponete come vi siete sempre proposti in realtà instigate il produttore a fare il salto della quaglia in realtà il tema cruciale è che in nome di un obiettivo di servizio in nome di un obiettivo di fornire risposte a problemi a bisogni attraverso soluzioni cioè integrando prodotti voi avete bisogno di produttori che condividano conoscenza con voi che lavorino insieme a voi attenzione e peraltro grazie alla vostra conoscenza voi potrete proporre prendere da un fornitore una cosa un altro fornitore l'altra ma occorre competenza e conoscenza capite? quinta dimensione vado veloce perché voglio voglio dirvi assolutamente ancora due cose quindi alla prossima puntata se Virginia mi inviterà ancora allora quinto elemento il ecco ho sentito parlare molto spesso in realtà non tanto qui ma lo cito perché sicuramente in molti di voi è presente questa cosa ho sentito parlare molto frequentemente di fatturato ecco la fatturata è una categoria che a me non piace allora io ho clienti che hanno clienti industriali quindi perché voi misurate la vostra base la vostra customer base sulle migliaia e migliaia di clienti ma diciamo clienti industriali hanno customer base che misurano sulle centinaia di clienti io ho clienti che hanno l'85% della base clienti che produce zero di margine però la forza commerciale è impegnata su quell'85% il che vuol dire che ruba energia sui clienti profittevoli o sul raggiungimento di nuovi clienti che potrebbero essere profittevoli questo cosa voglio dire che in realtà i vostri ragionamenti devono essere non solo ragionamenti di fatturato di prodotto di fatturato di categoria di fatturato di fornitore o di margine di prodotto margine di fornitore margine di categoria ma devono diventare ragionamenti di marginalità di clienti cioè il CRM di cui si parlava prima e su cui non posso entrare per questione di tempo è evidentemente la prima rappresentazione spero consapevole di una logica in cui io adotto un approccio segmentato al mercato in cui temi si dice del customer lifetime value cioè del valore atteso termini di profitti sul cliente diventa la metrica che guida la mia proposizione d'offerta ecco voi siccome dovrete scegliere siccome dovrete specializzarvi avrete sempre più bisogno di prendere la mira bene cioè di evitare di servire quelli che vi chiedono 20 preventivi e al 21esimo e vi chiudono l'offerta e poi la volta dopo ve ne chiedono altri 20 questi sono da perdere devono andare all'amazon di turno perché il vostro collo di bottiglia è la capacità di tempo disponibile per servire i vostri soggetti e dovete smetterla di dire di sì a tutti perché questo vi brucia rendimento il vostro rendimento è dato dal profitto per unità di tempo se voi vi sembra di perdere ogni lasciata è persa ogni lasciata è persa un cavolo quindi questi alcuni messaggi nei due minuti finali cito l'ultimo tema no cito due di temi il primo tema è il tema delle persone allora è evidente che tutto questo poggia attraverso persone corrette adeguate persone adeguate che cosa vuol dire allora caro Roberto persone adeguate secondo me vuol dire alcune cose la prima cosa vuol dire che l'investimento più importante che voi dovete fare per la vostra azienda è sulla formazione dei vostri collaboratori due managerializzazione della vostra azienda il che vuol dire che nel passaggio generazionale non necessariamente i vostri figli sono i migliori a gestire l'azienda adesso qui abbiamo dei casi di figli che è andata bene ai vostri padri ma nell'80% dei casi io vedo figli al timone di aziende che non vanno bene ma siccome sono figli li mettono lì allora io dico sempre all'imprenditore guarda che a te a tuo figlio hai il diritto di proprietà non hai il diritto di gestione io invece vedo imprenditori che hanno dei geni perfetti genetica perfetta perché nel 100% dei casi i figli sono al timone no i figli hanno il diritto di proprietà non il diritto di gestione quindi persone vuol dire questo e quindi sul tema e mi ha fatto molto piacere quindi sentir dire che la cosa più importante sono le persone interne e sì io dico sempre che la più grande sfida delle imprese del futuro sarà la trazione di capitale umano qualificata soldi ce n'è a schiovere soldi tantissimi tecnologie non sono un problema qual è la risorsa scarsa uomo uomo e cominciamo già a vederne dei sintomi adesso perché vedete che comincia a comparire però addosso al meglio che sono un milione di posti di lavoro vacanti com'è che sono vacanti è perché mancano le competenze giuste oppure non c'è la capacità di attrarre cioè io noi rigeneriamo 5.000 laureati all'anno e ho degli amici che hanno imprese che mi chiedono ingegneri e si lamentano perché gli ingegneri non vanno da loro i miei amici eh io vivo a Brescia e io dico ma tu che cosa dai a un ingegnere e alla fine della fira scopro che gli danno non gli danno soldi ma questo l'ha detto meno importante non gli danno delega non hanno un piano di crescita e non hanno un piano strategico ricordatevi una cosa che se non volete prendere scarti sono i giovani che scelgono voi non voi che scegliete i giovani i nostri giovani tanto per darvi un'idea noi io la settimana scorsa avrò allevato 300 ingegneri gestionali l'80% aveva già un contratto di lavoro a tempo indeterminato cioè ormai le aziende arrivano al terzo o second anno a coccolarsi queste persone a coltivarsele avete capito di cosa stiamo parlando l'80% aveva già un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando mi chiedono quindi i miei amici che non vogliono delegare perché loro sono i padroni che non hanno piani strategici perché tutto la loro testa che non hanno piani di crescita dico guarda al palo accomodati non vedrai mai un talento vedrai i disperati che passano per strada che vengono scaricati dagli altri ultimo aspetto quindi messaggio non sono i giovani non scegliete voi i giovani sono i giovani che scelgono voi quindi dovete mettervi in bella mostra voi non voi che fate parlo naturalmente a livello medio e se volete attrar talenti perché di scarti ce n'è sempre discreta disponibilità ma gli scarti non sono adatti al modello che avete voi futuro dove specializzazione servizio competenza quelli sono più adatti per cose molto standard operazioni micrometriche l'ultimo aspetto che a me sta molto a cuore è la presa di coscienza che il vostro modo di lavorare dal punto di vista marketing e comunicazione sarà diverso in che senso e qui non posso davvero chiudo nel senso che i buyer gli acquirenti anche nella vostra industry valorizzeranno sempre più i touchpoint digitali cioè voi dovrete sempre più lavorare articolando una comunicazione al punto fisico una comunicazione attraverso i vostri agenti una comunicazione attraverso i vostri siti e perché no una comunicazione attraverso delle app che sono utili ai progettisti o alle imprese per fare determinate cose apro un capitolo gigantesco guardate che uno delle motivi per cui più spesso vengo chiamato dalle aziende industriali è che le reti commerciali non performano più come una volta ma sapete perché non performano più? per i due motivi uno perché sono dei commerciali dei prenditori di ordini e non dei consulenti del cliente quindi tu vai Roberto e dici ma scusa ma te che segui da 20 anni quel cliente lì perché ti ha fatto queste richieste? non lo so e il cliente è diventato molto più esigente secondo quindi non hanno le competenze secondo elemento sono spesso strutturati per categoria di prodotto quando questo capiterà qui non serve l'esperto di prodotto serve chi è in grado di gestire la relazione appoggiandosi poi a uffici tecnici dietro che danno il supporto perché i clienti non ti chiedono un prodotto ti chiedono n prodotti ti chiedono soluzioni bene signori io credo comunque che la testimonianza di tre imprenditori sia stata una testimonianza di un esempio concreto che le cose si possono fare il mio piccolo contributo è quello di avervi dato in modo anche in taluni casi bold come si dice uno stimolo di riflessione una scossa perché i prossimi dieci anni saranno dieci anni decisamente intensi in cui lo spirito di questo signore deve ritornare a galla e deve essere visto i dieci anni futuri con lo spirito del boom industriale che i vostri padri i vostri nonni hanno vissuto grazie e buon lavoro un contributo prezioso credo che i prossimi dodici mesi avrete un sacco di riflessioni ora a proposito di modelli di sviluppo di cui si diceva prima invece allarghiamo l'orizzonte come vedete dal titolo della relazione con Federico della Puppa che allargerà all'orizzonte beh insomma questo intervento parlare dopo questo intervento potrei anche salutarvi e dirvi insomma è stato bello primo convegno in presenza insomma se mi ritardo vado via no diciamo la nostra distribuzione è la distribuzione degli altri primo dei due interventi che faccio oggi e la faccio breve la nostra distribuzione è quella all'interno dei confini italiani la distribuzione degli altri è quella al di fuori dei confini italiani e anche qua ho finito e vado a casa diceva giustamente Giuliano ma c'era una domanda di Roberto che prima è stata sottolineata sistema molto frammentato ma noi lo conosciamo bene questo sistema perché il tema è anche questo cioè in effetti quando parliamo di distribuzione e di il in questo caso comunque del mondo delle imprese di costruzione cioè del mondo delle costruzioni in realtà ci troviamo di fronte a un mondo poco analizzato poco studiato sicuramente un mondo non facile da raccontare da cogliere Cerve ha provato a farlo l'ultimo anno ed è la prima volta che si trovano anche dei dati di questo genere e sono dati sicuramente interessanti stiamo parlando di tutto il settore della distribuzione quindi non solo quella edile c'è anche l'idrotermosanitario l'elettrico eccetera stiamo parlando di 46.700 intermediari commerciali sono tanti sono pochi non lo so abbiamo 8.000 comuni in Italia fate voi le divisioni su quanti sono in ogni comune il punto è domandarci e in questo senso è un altro elemento che possiamo aggiungere agli elementi qualitativi che sono stati tracciati con così grande chiarezza da Giuliano il tema ad esempio della dimensione delle aree di mercato cioè laddove arriva la mia area di influenza dal punto di vista della mia capacità poi anche di consegnare i prodotti e di raggiungere i clienti certamente già si comincia a capire che probabilmente 46.700 sono un po' tanti certo danno da lavorare a 140.000 addetti quindi con un fatturato complessivo che serve da valutato in tutte queste filiere di 29,3 miliardi di euro significa che ogni addetto produce mediamente 209.000 euro di fatturato questa è la media ok del pollo ovviamente ma quanti sono i punti vendita dell'edilizia qua i numeri sono un po' piccoli magari non li vedete li troverete pubblicati ovviamente sul prossimo numero di Utrade quindi faccio un po' di pubblicità alla rivista per la quale anche scrivo tanti anni ma il tema qual è? che se noi andiamo ad analizzare questi sono i dati di Union Camera i segmenti cosiddetti i codici a teco che già l'anno scorso avevo detto in varie ho detto con il covid ci ha fatto scoprire che i codici a teco non rappresentano i sistemi economici perché l'anno scorso quando abbiamo dovuto bloccare l'economia per due mesi si è deciso che alcuni codici a teco potevano continuare a lavorare altri no e abbiamo scoperto che certe filiere produttive senza alcuni codici non potevano funzionare tipo l'edilizia senza il noleggio e il noleggio era stato il codice a teco del noleggio avevano deciso che era un codice che doveva non era essenziale all'economia in realtà i sistemi sono molto più interrelati molto più giustamente la parola ecosistema è una parola che rappresenta un nuovo modo il nuovo il nuovo modo attraverso il quale dobbiamo guardare il mercato ma se andiamo a vedere quanti sono i punti vendita dell'edilizia vediamo che in realtà non solo sono tantissimi questi sono solo quelli relativi ribadisco alle categorie dei codici a teco del settore della rivendita edilizia idrotemmo sanitaria non ci sono gli elettrici eccetera allora il mio domanda non tanto la fotografia io personalmente cioè una cosa che ho imparato da sempre è che fotografie sono belle ma ci piacciono i film cioè capire un po' come si evolvono le situazioni capire dove stiamo andando e da questo punto di vista ci sono dei movimenti all'interno dei settori ci sono dei settori che perdono e forse perdono perché dimostrano una maggiore capacità di concentrazione guardate ad esempio nel settore dei materiali di costruzione inclusi gli apparecchi igienico-sanitari meno 40% le sedi ma meno 14% le unità locali attive ecco questo già indica una certa modalità da un altro lato abbiamo invece altre realtà dove la crescita è tale e quale anche perché forse alcuni mercati sono anche più semplici forse da affrontare semplici nel senso almeno un tempo ricordo che sul mondo della distribuzione di Dile il luogo principale dove si svolgeva l'attività era il piazzale e quindi adesso semplifico banalizzo scusate ovviamente ma è proprio perché alcune cose alcuni ambiti certamente forse sono forse ripeto più facili ma oggi diventano certamente invece più impegnativi non difficili ma certamente più impegnativi allora al di là di quelle che sono le dinamiche guardate anche nell'ultimo anno la seconda lì vedete nella prima la variazione su dieci anni di quello che è successo e guardate nell'ultimo anno qualcuno potrebbe dire ma il covid ha ammazzato in realtà successo quasi niente sostanzialmente da questo punto di vista piccole cose un po' di aggiustamenti neanche più di tanto allora proviamo ad analizzare meglio questo settore rispetto ai numeri del settore quei numeri che possono essere trovati raccontati descritti un po' come lo facciamo noi col centro studio Utrade un po' con i dati che si trovano allora diciamo 27.000 punti vendita è vero no? in realtà la distribuzione di D-Len ha circa 8.000 effettivamente quello che è il vostro mondo e la stima diciamo del giro d'affari complessivo è di circa 15 miliardi di euro ora su questo diciamo mondo in realtà ci sono delle realtà che rappresentano dei segmenti dei pacchetti che sono delle specializzazioni in qualche modo no? abbiamo 33 gruppi e consorzi con 1.000 e 3 rivenditori quasi 1.500 punti vendita quasi 600 showroom e un fatturato stimato nel 2020 di 2,86 miliardi di euro abbiamo preso le insegne multipoint le prime 40 qualcuno di voi avrà già letto anche l'articolo che è stato pubblicato qualche mese fa sia di edilizia che di idrotermosanitario in questo caso abbiamo perché spesso i settori sono anche accorpati 710 punti vendita e un fatturato di 2 miliardi di euro abbiamo 29 insegne della grande distribuzione specializzata e GDO del settore brico e abbiamo 795 punti vendita con un fatturato stimato di 4,5 miliardi di euro questi sono i numeri italiani dopo vediamo qualche catena straniera proprio per vedere noi e loro i top 100 della rivendita edile che troverete pubblicati sul numero di ottobre della rivista complessivamente fatturano 1,65 miliardi ma non è un'azienda sono le prime 100 del settore quindi in realtà i fatturati sono molto inferiori chiaramente allora al di là di questo cioè questi numeri che comunque fotografano come è organizzato il settore in Italia e dimostrano anche che questi possono essere dei blocchi di partenza sui quali pensare di impostare diciamo delle politiche di sviluppo che in realtà possono avvicinarsi a quelli che sono alcuni modelli o orizzonti europei perché non è detto che i modelli stranieri poi si adattino al mercato italiano notto cura cioè chi come me come voi visita i paesi stranieri va a vedere come sono organizzati i punti vendita le catene eccetera vede alcune cose bellissime e poi dice ma 3SS non so se questo funzionerebbe da noi ecco allora focalizziamo alcuni elementi ancora su per andare un po' più a fondo nella conoscenza del nostro e vostro settore i numeri e le dinamiche dei gruppi di consorzi ci raccontano una cosa interessante innanzitutto nell'arco degli ultimi due anni abbiamo avuto una crescita molto interessante sia dal punto di vista dei rivenditori associati ma soprattutto dei punti vendita cioè un allargamento della base questo è un elemento che evidenzia forse che il mercato sta anche capendo che mettersi assieme è una cosa positiva chiaramente dobbiamo capire qual è l'obiettivo come veniva detto prima però è già un primo elemento ma su questo tema qua io vorrei concentrarmi su questo aspetto su questa rispetto alle indagini che facciamo col centro studi rispetto a quello ad esempio che è il rapporto col commercio online guardate in due anni cosa è cambiato e anche potremmo dire cosa il covid ci ha insegnato il fatto ad esempio che in due mesi l'Italia ha scoperto che esisteva il digitale e potevamo lavorare da casa magari non tutti i lavori si possono fare da casa tipo il pompiere non può portarsi gli incendi a casa da spegnere però diciamo che abbiamo imparato che potevamo organizzarci in modo diverso e che non era una cosa negativa in alcuni casi ha mostrato addirittura nella pubblica amministrazione in casi ovviamente di eccellenza che c'è un incremento di produttività allora qui il tema del commercio online che fino a due anni fa guardate quasi la metà dei gruppi e consorzi non avevano punti vendita integrati dal punto di vista dell'e-commerce 44,4% allo studio 4% in parte 26,8% sì 24,8% quel 24,8% dopo due anni è diventato il 58,8% e quel 44,4% che dice no all'e-commerce diceva no all'e-commerce in realtà è diventato il 15,1% è chiaro che è una rivoluzione questa cioè è un cambiamento ma è un cambiamento che non è solo la risposta per dire ciò lo fanno anche gli altri o faccio anche a me scusate sono in Veneto parlo un po' la mia lingua la questione è che attraverso una riorganizzazione aziendale per dare servizi di e-commerce io devo rivedere i miei processi devo vedere come sono organizzato e scopro ad esempio che la logistica è un elemento strategico fondamentale multipoint qui vedete qualche numero li abbiamo già pubblicati ma è solo per dire che cosa che in realtà anche qui e lo vedremo dopo su qualche numero che vi porto in anteprima sull'articolo che uscirà il prossimo mese sulla top 100 la questione è che la dimensione e quindi da un certo punto la dimensione vuol dire anche fatturato chiaramente è importante ma non importante per la dimensione del fatturato ma perché si porta dietro la necessità organizzativa maggiore una strutturazione maggiore da questo punto di vista e in multipoint questo lo dimostrano guardate ad esempio non solo le crescite tra un anno e sull'altro poi qui stiamo parlando ancora 2018-2019 però dei fatturati ad esempio e degli utili ma guardate soprattutto come è diversa il peso ad esempio dell'utile netto sul fatturato un indicatore banale se volete però ci dà un primo peso della capacità di creare reddito di creare profitto ovviamente nelle nostre aziende allora se mi tengo a mente questi numeri e vado a vedere che cosa fa la GDO la GDS uno potrebbe dire sì e in effetti loro sono tanto forti questi sono i numeri del censimento che ogni sei mesi fa DIY online e DIY e www.engarden.com e qui trovate 795 punti vendita e guardate sono 617 diretti e 178 in franchising allora anche questa è una fotografia hanno più di 2 milioni e 200 mila metri quadri di superfici di vendita ma qual è l'elemento interessante a mio avviso ancora una volta non tanto la fotografia ma il film il film qual è adesso lo vediamo ma qui ho concentrato l'attenzione su che cosa su alcune insegne sulle quali si può fare il confronto tra cosa erano loro nel 2004 e cosa sono oggi nel 2020 guardate la necessità di eliminare il franchising e la necessità di spingere sul punto vendita diretto questo è un elemento chiarissimo è un elemento chiarissimo perché significa che io sul franchising non riesco a essere così efficace tanto quanto sono sul mio punto vendita diretto questa è la GDO la GDS con imprese di grande dimensione in questo caso alcune anzi di non grandissima dimensione allora quali sono state le performance nell'ultimo anno qui abbiamo bilanci 2019 bilanci 2020 di alcune insegne quelle per le quali siamo riusciti a recuperare poi i bilanci ecco vedete che c'è un calo meno 2,1% e quindi insomma atteso al di là del fatto che alcune insegne sono andate molto giù guardate Optimax e alcune invece hanno avuto degli incrementi ma stiamo parlando del settore brico quindi c'è anche un elemento legato a clienti che voi sostanzialmente non sono vostri clienti per tipologie di prodotti eccetera complessivamente stiamo parlando di 3 miliardi e 400 milioni di giro d'affari quindi è una cosa molto consistente ma guardate il percentuale degli utili sul fatturato questo indicatore banale la cartina di tornasole quella roba che si tira fuori per vedere se una cosa è acida o basica guardate qui le percentuali Bricoman fa 3,5 gli altri cosa hanno fatto il 2 l'1,6 0,8 ok è chiaro che con queste tipologie di utili se io ho una dimensione gigantesca quella percentuale cioè se io faccio un miliardo e 300 400 milioni di euro di fatturato come la Roma Merlain un 2% su un miliardo e 4 è tanta roba certamente se io sono piccolo forse quel 2% non mi basta perché quel 2% forse mi permette di cambiare di fare piccoli investimenti perché poi è quello il tema è come io poi prendo questa diciamo capacità di redditività dell'impresa e la trasformo in investimenti in innovazione e qui vi riporto al 2020 alcuni indicatori di performance perché secondo me invece questi sono importanti e non so quanti di voi e sarebbe molto bello fare la stessa scusate la stessa gli stessi conti sulle vostre imprese solo che per esempio sulle vostre imprese non sappiamo quante superfici di identità avete quanti dipendenti però ci possiamo arrivare pian piano ma perché questo lo potete fare però per conto vostro guardate l'erroa Merlain quanto riesce a produrre di Collerua Merlain Bricoman OBI Bricocenter quanto riescono a produrre in termini di fatturato per metro quadro di superficie di vendita ma soprattutto per addetto e qui vedete che ci sono delle diversità molto rilevanti e se andate a mettere questi dati assieme ai dati della reddittività è chiaro che OBI è un po' più in difficoltà produce 168 mila euro per addetto a confronto ad esempio un Bricoman che dice ma perché Bricoman è così forte perché probabilmente ha un modello organizzativo molto più produttivo capace proprio di attivare anche la proattività dei propri dipendenti in questo senso anche Ottimax ad esempio stava male Ottimax dal punto di vista delle avete visto della reddittività precedente aveva perso il 20% però guardate quanto produce poi andiamo a vedere le superfici di vendita io dico Bricoman perché vince guardate quanto produce per metro quadro 5300 euro per metro quadro voi fatevi i vostri conti vado a chiudere questa parte questo è il mio primo intervento andando a vedere alcuni dati non li svelo tutti perché così andate a leggere l'articolo andate a vedere le classifiche e andate a vedere poi i singoli c'è da dire una cosa ovviamente anche noi innoviamo e quest'anno abbiamo un sacco di indicatori in più che abbiamo inserito nell'analisi di bilanci degli indicatori secondo me molto interessanti proprio per misurare non tanto poi le singole performance delle singole aziende ma è per per capire poi complessivamente anche un settore come si sta muovendo e quali sono diciamo i punti deboli sui quali poi spingere le aziende a migliorare da questo punto di vista come è andato il 2020 tra i top 100 allora meno 4% vabbè quello complessivamente si può anche immaginare c'è chi ha perso di più chi ha perso di meno chiaro questa è sempre la famosa media abbiamo avuto però un 35,6% di imprese cioè poco più di un terzo delle imprese con il fatturato in aumento qui non è andata male per tutti però se io mi basassi solo su questo dato e qui viene il ragionamento che c'è Giuliano il fatturato non ci racconta nulla non ci dice niente perché io metto vicino l'altro indicatore che mi dice che il 91% della top 100 ha avuto un bilancio inutile magari di un euro ma era comunque inutile allora dico probabilmente non sei cresciuto o hai perso fatturato ma sei riuscito a fare utili vuol dire che sei organizzato in modo adeguato ma guardate la percentuale di utile sul fatturato la media complessiva che tiene dentro anche quel 9% che invece ha avuto perdite 3,8% quanto era la media del GDO GDS molto molto meno ok allora certo uno non può dire ah ma allora stiamo bene mi siedo sugli allori qui c'è da lavorare c'è da lavorare molto c'è da lavorare dove c'è da lavorare sul fatto che guardate hanno perso tutti classi di fatturato dai 60 milioni di euro in su tra 30 e 60 milioni tra 10 e 30 e tra 5 e 10 sotto di 5 milioni non abbiamo preso imprese cioè abbiamo fatto una soglia dai 5 milioni in su guardate che le dinamiche di mercato sono come erano nell'anno positivo sempre la dimensione comunque garantiva una maggior spinta ma d'altronde sono come le automobili certo se ho una 500 di quelle vecchie arrivo fino a un certo punto se ho una macchina insomma con un motore un bel 2000 eccetera tanti cavalli è chiaro che se accelero va ok allora qui vedete già questo elemento che secondo me è importante ed è importante perché se andiamo a vedere che è stato un anno difficile per le vendite ma ha tenuto la redditività e dov'è che ha tenuto la redditività? qui è lampante allora la dimensione non è importante per il fatturato la dimensione importante per la redditività questa è la diciamo certificazione di questo dato perché le imprese della top 100 con oltre 60 milioni di euro di fatturato hanno fatto utili in percentuale sul fatturato ripeto un indicatore che ha una cartina di torna sole semplice 5,2% guardate quelli tra i 5 e i 10 milioni zero 2 allora il tema è questo che noi dobbiamo crescere ma non tanto crescere in fatturato certo crescere in fatturato d'accordo ma forse userai l'altra parola che non è crescere ma svilupparsi cioè lo sviluppo concentrato sugli elementi strategici se ne è parlato fino adesso questa mattina mi sembra che stiamo andando veramente su una focalizzazione finalmente dei temi sui quali dobbiamo investire molto l'estero cosa ci insegna ci insegna che come noi vogliamo rappresentarci siamo comunque sempre figli poveri di un'Europa ricca perché perché in realtà se andiamo a vedere alcuni esempi io vi porto alcuni esempi potremmo stare qui una giornata intera ad analizzare le grandi catene eccetera alcuni di voi conosceranno questi gruppi poi in Francia 851 punti vendita 150 showroom 540 milioni di euro di fatturato quindi neanche dei fatturati grandissimi per punto vendita quindi sono guardate cosa riescono a produrre per addetto 390 mila euro ma che organizzazione hanno come sono strutturati guardate che non sono grandi punti sono piccoli punti nei piccoli paesini ma la casa madre chi gli dà l'insegna perché sono le ex rivendite familiari trasformate in rivendita dell'insegna che gestisce la logistica e gestisce tutto il sistema ma non è un gruppo d'acquisto questo chiamiamolo gruppo di vendita non lo so in realtà è quello il punto il marketing non lo fa la famiglia la singola aziendina glielo fanno in sede centrale e così è per tutti gli esempi che vi mostro adesso il gruppo Sanse è la stessa cosa c'ha 37 insegne diverse addirittura mantengono il nome dell'insegna principale 350 punti di vendita 1,5 miliardi di fatturato un gruppo che fa tutto il fatturato esattamente come l'Euromer Line in Italia sulle rivendite di lì in Francia che siamo cugini da questo punto di vista 250 mila euro per addetto e poi ci sono i grandi gruppi WG International di cui per esempio Saltocchi in Spagna fa parte di questo grande gruppo questo è un gruppo che ha 19 insegne 400 punti vendita 3,6 miliardi di fatturato 3,6 miliardi di fatturato quando noi il nostro diciamo tutto il sistema di gruppi e consorzi italiani delle 33 insegne fa 2 miliardi e 8 questo è uno vediamo qualche altro esempio e poi chiudo DEC DEC non consegna in 10 minuti DEC DEC consegna in 15 minuti voi arrivate sul piazzale di DEC piazzate il vostro camioncino sotto il numero 88 ci sono tutti i posti numerati entrate sono all'88 andate a bere il caffè aspettate uscite e trovate il Transpader che vi ha portato i materiali da caricare 15 minuti ordini online tutto viaggio online Repubblica cieca 100 punti vendita 640 milioni di euro e fatturato fate la media e questi che cosa hanno fatto hanno diciamo inserito all'interno della loro insegna i vecchi piccoli punti vendita distribuiti sul territorio ovviamente li hanno però brandizzati li hanno e soprattutto non è solo brandizzati gli hanno messo solo il marchio gli hanno detto ti metto il marchio ma ti organizzi perché io gestisco la logistica logistica Agebau Eurobastoff in Germania i numeri li vedete cioè dove andiamo un gruppo da solo fa 6,5 miliardi quasi la metà di tutto il c'è chiaro che è un mercato sono più concentrati loro ma guardate qui sono reti di imprenditori nel caso di Agebau sono 360 nel caso di Eurobastoff che alla fine è una cooperativa abbiamo 475 rivenditori indipendenti guardate 1745 sedi in 10 paesi è chiaro che con un'organizzazione di questo tipo il tuo orizzonte non è più come dicevo all'inizio dentro i confini fuori dei confini il tuo orizzonte dipende dalle opportunità di mercato che con la tua organizzazione e sottolineo di nuovo con la tua logistica sei in grado di fornire perché poi se andiamo a studiare bene tutti questi gruppi che avevo presentato ma anche gli altri che abbiamo studiato e che stiamo ancora studiando e continueremo a pubblicare articoli su questi gruppi esteri ciò che si scopre è che in realtà ci sono due elementi fondamentali che vengono gestiti anzi tre che vengono gestiti a livello centralizzato logistica piattaforme distributive iperorganizzate che consegnano punto vendita bisogno del materiale il camion parte neanche in una giornata il materiale viene consegnato secondo elemento è il tema del marketing il marketing centralizzato strutture di questo genere hanno una capacità di produzione che un singolo soggetto per quanto possa fare milioni di euro di fatturato non può permettersi cioè faccio sei miliardi ma mi compro campagne televisive eccetera cioè il 4% di sei miliardi noi dovremmo spendere mediamente per stare il 4% del nostro fatturato in comunicazione e pubblicità non so quanti di voi lo fanno però sei miliardi per 4% la tv te la compri ultimo elemento la fatturazione centralizzata cioè l'altro elemento è l'organizzazione e fatturazione centralizzata significa che tu hai dei meccanismi di scontistica ma di supporto finanziario ai tuoi punti vendita che è fondamentale e strategico tu addirittura riesci qualcuno lo fa anche in Italia ad anticipare no? addirittura fai da banca al tuo ma perché? perché in realtà sei dentro una logica dove è l'organizzazione che vince e il singolo fa parte di questa organizzazione quello che diceva un po' cianciosi prima allora chiudo tre cose l'estero cosa ci insegna? a stare insieme a stare insieme a pensare alla dimensione aziendale come un sistema di aziende integrate l'ecosistema del quale si parlava prima che è l'ecosistema della cioè è una conoscenza ecosistemica di ciò che esiste intorno se si basa su un meccanismo di aziende integrate è molto più forte la potenzialità della risposta secondo gestire in modo centralizzato la logistica e comunque organizzarsi da quel punto di vista perché senza investimenti forti su questo aspetto in realtà la crescita cioè lo sviluppo quindi la crescita è quantitativa lo sviluppo è anche qualitativo e stiamo imparando che le risposte qualitative poi si traducono in quantità ma è lì che dobbiamo lavorare sugli aspetti qualitativi cioè sul nostro meccanismo organizzativi su come siamo diciamo in grado di rispondere alla domanda del mercato ma anche ad anticiparla ad esempio uno degli aspetti di cui si diceva prima capacità di guardare avanti e di organizzarsi per ultimo elemento a essere presenti capillarmente sul territorio lasciando anche ai piccoli imprenditori un ruolo che è quello commerciale locale hai i tuoi clienti che conosci da una vita continua a seguirli trattali bene dal punto di vista ma il marketing non puoi farlo a livello di singola di singolo punto devi pensarlo in modo completamente diverso altrimenti voglio dire dove andiamo allora secondo me sono questi i punti chiave sui quali concentrare l'attenzione poi voglio dire se a fronte di una GDS che è la grande distribuzione organizzata cioè specializzata scusate volessimo inventarci una PDS una piccola PDS no forse meglio di no cambiamo cambiamo allora io non lo so se il nostro territorio è adatto ad essere organizzato solo con grandi piattaforme di vendita perché se andiamo ad analizzare come è strutturato il nostro territorio dal punto di vista insediativo della domanda eccetera in realtà la nostra frammentazione non è solo perché sono le imprese che lo vogliono è perché il territorio è fatto così però certamente nella frammentazione possiamo trovare dei meccanismi di ottimizzazione e di migliore gestione io credo che è su questo che dobbiamo spingere cioè il tema della gestione gestire significa organizzarsi e organizzarsi in questo caso significa essere competitivi grazie dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti